Buon pomeriggio a tutti e bentornati di nuovo con la rubrica sicurezza e lavoro curata da Paolo Fiorenzo rubrica sicurezza e lavoro che da qualche settimana a questa parte si occupa degli animali attorno a noi cioè tutti quegli insetti, quegli animali, quelle vipere, quei topi, diciamo così, quelle zanzare che ci ruotano, ci ronzano attorno in particolar modo nel periodo estivo animali sostanzialmente innocui perché basta non dargli fastidio e loro trascorrono la giornata serenamente animali che però se avvicinati un po' troppo oppure infastiditi un po' troppo possono rappresentare un pericolo per la salute delle persone che abitano sia in città che in campagna nelle scorse settimane abbiamo trattato zecche, zanzare, vipere, topi e questa settimana tocca a api e vespe e agli scorpioni ciao Paolo ciao Daniele, un saluto a tutti voi oggi parliamo di api, vespe e scorpioni animali che meno o male sono familiari un po' a tutti le api e le vespe le trattiamo insieme anche perché sono animali che appartengono sono simili e appartengono all'ordine degli menotteri volano e pizzicano e possiamo dire che le api domestiche vivono generalmente nelle arnie mentre quelle selvatiche e le altre specie di menotteri nidificano generalmente in capità naturali come esempio nel ronchi d'albero oppure in anfratti rocciosi e a volte possono farlo anche all'interno di edifici come portici o nelle stalle o nei sottotetti e alcune vespe invece nidificano anche sottoterra diciamo che dal punto di vista della diffusione questi animali sono reperibili ovunque e certe specie si trovano solo esclusivamente in campagna mentre altre possono avvicinarsi anche alle abitazioni e anche in centri abitati come insomma anche all'interno delle città e hanno la capacità di nidificare sia sugli alberi che negli edifici diciamo è molto facile incontrare le api è più probabile incontrare le api in prossimità di prati e siepi con fiori o in vicinanza di arnie in quest'ultimo caso rappresenta l'evenienza più pericolosa perché? perché c'è un alto numero di esemplari che è possibile avvicinare quindi diciamo è un problema di quantità anche se poi come vedremo è necessario un singolo pizzico di ape per poi poter eventualmente scatenare una risposta immunitaria del nostro organismo che cosa bisogna fare? bisogna stare lontani dai nidi e gli alveari nel caso si vedono naturalmente nel caso di sciami o di presenza di nidi vicino alle abitazioni è opportuno non intervenire se non si ha dimestichezza con questi animali soprattutto se si è allergici al loro veleno se si sa di essere allergici al proprio veleno e comunque diciamo non è necessario disturbare gli animali ma occorre chiedere l'intervento di persone specializzate in caso di api domestiche è necessario l'intervento di un apicoltore che può intervenire prelevando lo sciame e trasportandolo presso un'arnia per poi poi insomma allevarle e le api si nutrono di nettare e pollene dei fiori le vespe invece sono insetti predatori e si nutrono di altri invertebrati o di alimenti vari come la carne o la frutta il pungiglione degli immenotteri è un organo ovodepositore modificato e quindi per questo motivo a pungere sono solo le femmine quindi se vi pungere un'ape o una vespe è solamente una femmina quali sono però i rischi sanitari quello che ci interessa fondamentalmente a noi questi insetti per natura non sono aggressivi ma possono diventarlo se provocati cosa che può avvenire anche in maniera del tutto involontaria in questi casi possono diventare particolarmente aggressivi la puntura è sempre dolorosa e la gravità dipende dal numero di punture e solo in caso di numerose punture diciamo nell'ordine almeno di alcune decine la dose di veleno iniettata può destare preoccupazione e dipende inoltre anche dal tipo di insetto se appungere l'ape il pungiglione rimane infisso nella cura infatti tra l'altro le api di guardia all'alveare hanno nelle sacche velenifere una scotta maggiore di veleno rispetto alle operaie adulte questo perché la loro funzione è appunto quella di proteggere lo sciame il rischio maggiore però è dato dallo shock anafilattico che può colpire le persone allergiche al veleno degli immenotteri e causare anche la morte con una sola puntura era quello che accennavamo poc'anzi in caso di puntura si possono avere tre diverse reazioni la reazione normale, la reazione locale estesa e la reazione allergica sistemica le reazioni normali la conseguenza più comune è il dolore immediato nella serie della puntura seguito da gonfiore, arrossimento e prurito della durata anche di ore per questi disturbi però generalmente è sufficiente rimuovere il pungiglione evitando accuratamente di schiacciare la sacca del veleno e applicare nella serie della puntura una borsa di ghiaccio e disinfettare la ferita diciamo che questa semplice procedura di solito risolve il dolore e il gonfiore in alcune persone però il gonfiore nella serie della puntura può essere più marcato ed estendersi di molto e quindi si ha una reazione locale estesa in questi casi oltre all'applicazione di un impacco freddo locale è necessario anche rivolgersi al più presto al medico curante per le eventuali terapie farmacologiche e nel caso di essere puntata una persona allergica si possono avere dopo la puntura reazioni che coinvolgono più apparati dell'organismo e siamo di fronte a una reazione allergica sistemica si possono avere pallore, stato confusionale, senso di svenimento strani gusti in bocca oppure orticaria, difficoltà di respiro, crampi addominali, vomito e diarrea in questi casi è di vitale importanza la prontezza del soccorso farmacologico occorre quindi rivolgersi alla più vicina struttura sanitaria per una sorveglianza e le prime cure chi sa di essere allergico al veleno delle api o delle vespe dovrebbe tenere a disposizione una fiale di adrenalina che è disponibile in commercio e già preparata in siringa la persona e i familiari quindi dovrebbero essere istruiti sul trattamento di una severa reazione allergica tra le persone che hanno una reazione non solo locale ad una puntura di insetto il 60% può avere in futuro una reazione allergica anche grave e queste persone dovrebbero rivolgersi ad un ambulatorio allergologico per essere sottoposte ad una vaccinazione desensibilizzante il problema è quando non si sa di essere allergico e purtroppo non uno se ne accorge nel momento in cui viene punto e il veleno degli menotteri oltre ad essere responsabile di reazioni locali di diverse entità è infatti in grado di determinare reazioni allergiche generalizzate che possono culminare nello shock anafilattico diciamo che in Italia la prevalenza di reazioni sistemiche da puntute di menotteri si gira tra lo 0,5 e il 3% e questo dato può aumentare in alcune popolazioni a rischio come per esempio appunto gli apicoltori o soggetti in età medio avanzata affetti da protologie cardiovascolari o che assumono farmaci come beta bloccanti le reazioni allergiche si manifestano in seguito a punture successive quindi la prima puntura è necessaria per indurre la sensibilizzazione quindi non è mai accompagnata da reazioni di tipo allergico e possono essere di tre tipi reazione locale estesa che provoca un gonfiore locale maggiore di 10 cm che persiste non più di 24 ore una reazione allergenica sistemica che quindi causa orticaria, angioedema, broncospasmo, shock anafilattico di entità variabile fino al decesso e reazioni ritardate che sono però molto rari come vasculiti, glomerulo, nefriti o poliradiculiti comunque sono cose molto molto rare e le reazioni allergiche da puntura di menotti sono generalmente reazioni acute e sono mediate da anticorpi di tipo immunoglobuline E prima parlavamo del discorso della vaccinazione la vaccinazione offre una copertura intorno al 98% ed è particolarmente indicata nei soggetti a rischio di reazione sistemica grave e in seguito a ripuntura perché come detto la prima puntura non scatena questa reazione la vaccinazione consiste di inoculi sottocutani crescenti di veleno purificato dell'insetto a cui si è allergici e va eseguito dopo il periodo di induzione una volta al mese per almeno 5 anni quindi una procedura molto lunga ed elaborata questa procedura va eseguita in ambiente protetto quindi in un ambulatorio medico ospedaliero perché l'inoculo di veleno potrebbe determinare problemi anche di tipo sistemico tutti i soggetti con un'accettata allergia al veleno di minotteri anche quelli che hanno avuto reazioni locali estese dovrebbero sempre portare con sé alcuni farmaci come antistaminici e cortisonici ad assumere per via orale un preparato a base di adrenalina per autosomministrazione sottocutanea o intramuscolare e questo perché? perché l'adrenalina va impiegata in caso di comparsa di sintomi gravi come edema della glottide quindi la sensazione di costruzione alla base della lingua con difficoltà a deglutire sintomi cardiovascolari come disturbi della vista, vertigini, calo della pressione o sintomi asmatici come tosse e difficoltà a respirare e occorre però anche in questo caso stare attenti perché in rari casi di artimie cardiache e coronopatie che comunque ripeto sono veramente rare ci può essere una contraindicazione all'utilizzo di adrenalina e quindi è sempre necessario un consulto cardiologico quindi diciamo le avi e le vespe sono carine sono simpatiche però occorre stare attenti come detto sono animali non aggressivi che però se anche in maniera involontaria vengono diciamo provocati possono reagire e passiamo ora a vedere invece gli scorpioni gli scorpioni diciamo se ne conoscono attualmente circa 1200 specie e sono i più vecchi artropodi conosciuti che appartengono alla classe delle arachnida e così come i ragni gli acari scusate diciamo il loro corpo è allungato è costituito da due parti quella anteriore che è chiamata prosoma è ricoperta da uno scudo dorsale il carapace è dotato oltre agli occhi di tre tipi di appendici presentano infatti quattro paia di zampe un paio di pedipalpi con funzioni sensoriali e prensili e un paio di cheliceri specializzati per afferrare il cibo la porzione posteriore detta anche opistosoma termina con la coda curvata verso l'alto è dotata all'estremità di ghiandole velenifere e di un aculeo ad uncino per inoculare il veleno sulla parte mentale del corpo sono presenti rudimentali organi tattili usati per il riconoscimento dell'altro sesso diciamo che dal punto di vista delle dimensioni variano da pochi millimetri fino a circa 20 centimetri in alcune specie tropicali le specie presenti in Italia misurano al massimo dai 4 ai 6 centimetri hanno abitudini quasi esclusivamente notturne infatti di giorno restano generalmente nascosti e preferiscono gli habitat caldi e asciutti anche se dai nostri partiti non è difficile trovarli poi in ambienti umidi generalmente vivono e si rifugiano sotto i sassi nelle fessure dei muri nelle cortecce degli alberi o spesso li trovo nelle legne accadastate quando diciamo d'inverno si va a prendere la legna sono predatori carnivori ma possono digiunare per lunghi periodi di tempo anche fino ad un anno e la loro dieta è costituita principalmente da insetti e da altri piccoli animali che vengono catturati con l'ausilio con l'ausilio dei potenti peripalpi e sminuzzati con i cheliceti il cibo così procurato viene poi succhiato come nutrimento liquido mentre le parti dure vengono eliminate il veleno viene utilizzato raramente per lo più viene utilizzato per immobilizzare le predi di grandi dimensioni o per difesa quando vengono disturbati la maggior parte degli scorpioni è ovuvivipara ovvero la prole nasce da uova che si sviluppano dentro il corpo materno alcune specie invece sono ovivipari quindi in questo caso i piccoli sono partoriti già completamente formati generalmente i nuovi nati che vanno da un numero minimo di 20 fino a un massimo di 50 esemplari per ogni parto trascorrono il primo periodo della loro vita con la madre che li trasporta sul dozzo e li protegge fino alla prima muta gli scorpioni sono presenti nelle regioni tropicali e subtropicali in quelle a clima temperato in Italia vivono alcune specie di quella più comune è appunto l'Euscorpius italicus ma sono presenti anche altre specie e quali sono i rischi per l'uomo? come già detto lo scorpione punge solo se viene disturbato come misura di difesa come abbiamo visto tutti gli animali di cui abbiamo parlato diciamo generalmente scappano avanti all'uomo però se disturbati poi si difendono gli effetti della puntura sono diversi a seconda della specie di appartenenza naturalmente per quanto riguarda le specie tropicali facciamo una parentesi il veleno può determinare la necrosi emotragica nel punto in cui viene inoculato e sintomi cardiotossici retensivi e neurologici il rischio di andare incontro a gravi danni fino alla morte naturalmente è tanto maggiore quanto più è giovane la vittima gli effetti del veleno dipendono infatti dalla reattività del soggetto colpito e dal suo peso in questi casi è necessario un trattamento medico urgente però ripeto queste sono le specie tropicali le specie invece presenti in Italia e più generalmente diciamo in Europa non sono particolarmente pericolose la puntura causa in genere dolore prurito, addossamento e gonfiore ed è localizzata nella sede di inoculo la sintomatologia è di solito di breve durata il trattamento consiste infatti nella spremitura della zona interessata per far uscire il veleno nell'applicazione di ghiaccio e se necessario di pomate antinfiammatorie e diciamo solamente il veleno del butus un'altra insomma specie presente qua in Italia può provocare febbre alta solo se la reazione assume aspetti di particolare gravità o nel caso ci siano state interessate persone particolarmente a rischio come neonati, bambini o soggetti allergici occorre adottare maggiori precauzioni e consultare il medico per le cure del caso e in questo caso la profilassi antitetanica è sempre raccomandata e la presenza di scorpioni diciamo raramente chiede interventi di disinfestazione da un lato perché non sono praticamente mai presenti in numero così alto da far pensare ad una vera e propria infestazione dall'altro perché diciamo nonostante tutto portano anche dei vantaggi perché cacciano e quindi eliminano insetti altri piccoli animali dannosi o anche solo fastidiosi per l'uomo se si teme la loro presenza nell'abitazione in particolare nelle case di campagna o nelle relative pertinenze come per esempio nella cantina si possono sigillare tutte quelle fessure tramite le quali gli scorpioni possono accedere all'interno degli ambienti quando però è necessaria la disinfestazione ebbene sia effettuata da operatori esperti e non ci si improvvisi diciamo disinfettanti di scorpioni meglio di no meglio di no ecco alcune curiosità soprattutto su api e scorpioni la povera vespa è stata sempre considerata una specie di volatile tra virgolette volatile di serie B anzi diciamo nemico pubblico numero nemico pubblico numero uno soprattutto quando te lo ritrovi o nei giardini oppure addirittura dentro casa fermo restando che basta non dargli fastidio oppure rincoglionirli un pochettino con dei fumi prenderli e buttarli fuori insomma è sempre un peccato uccidere un animale assolutamente anche perché comunque apporta dei benefici all'ambiente anche perché poi fra l'altro se punge perché si difende come ognuno di noi è ovvio se noi ci troviamo di fronte a un elefante aggressivo siamo dotati diciamo così di fucile non abbiamo altra via di fuga facciamo la stessa cosa che poi fa l'ape e la vespa nei nostri confronti ecco insomma detto questo per quanto riguarda le api le api sono state da sempre l'emblema dell'operosità e fin dai tempi più antichi li ritroviamo in raffigurazioni oppure sempre all'interno oppure in ambito letterario ad esempio si ha notizia da pitture murali risalenti alla preistoria rinvenute nella cueva della Ragna in provincia di Valencia in Spagna dove le api vengono appunto raffigurate parliamo appunto di preistoria le api vengono raffigurate e si evidenzia appunto da queste pitture come già dai tempi della preistoria già dai tempi dell'antichità l'uomo sfruttava le api per trarne il miele nella mitologia greca erano considerate messaggeri delle muse per la loro sensibilità ai suoni ma anche il simbolo del popolo obbediente al suo re quando secondo la leggenda Zeus bambino fu nascosto dalla madre Rea in una grotta del monte Ida a Creta per sottrarlo al padre Crono che voleva divorarlo Zeus fu nutrito oltre che dal latte della capra amaltea anche dal miele prodotto dalle api locali essendo poi il miele nell'antichità l'unica fonte di zucchero l'ape e sua produttrice era tenuta in alta considerazione a ciò probabilmente è dovuta la sua connessione al tema della bugonia ovvero dell'origine della vita in questo caso lo sciame da carcasse di animali sacrificati di solito buoi come indica il nome ma anche leoni gli episodi più noti sono narrati da Virgilio nelle Georgiche ripreso da Ovidio nei Fasti e dall'Antico Testamento nel libro dei Giudici particolarmente considerata era l'organizzazione dell'alveare descritta con ammirazione da Plinio il Vecchio e presa a paragone per la sua laboriosità dallo stesso Cicerone l'ape era anche simbolo del coraggio per la sua determinazione nell'attaccare gli aggressori e della virginità anche Virgilio esalta la purezza delle api che non si abbandonano all'amore non si infiacchiscono nei piaceri e non conoscono nell'unione dei sessi nei dolorosi sforzi del parto e Plutarco afferma che le api puntano i loro pungiglioni contro chi è schiavo dei piaceri del sesso non stupisce quindi che anche l'iconologia cristiana abbia considerato molto positivamente la figura simbolica dell'ape San Francesco di Sales paragona nel suo trattato dell'amore per Dio l'anima dell'uomo nel corso della sua vita terrestre ad un'ape paragone già formulato nel testo Vitis Mistica attribuito a San Bernardo e ripreso da Rudolf Steiner mentre Dante paragona le anime degli angeli alle api come simbolo viene utilizzato anche in massoneria per indicare l'operosità laboriosa di tutti i fratelli in Araldica troviamo invece le api inserite nel blasone dell'abbazia di Notre-Dame de Mellarie dipartimento della Sartre così come fecero molti altri abbati e badesse mentre tre api campeggiano su sfondo azzurro nello stemma dei Barberini riprese nella famosa fontana del Bernini a Roma scolpita su richiesta di Papa Urbano VIII Maffeo Barberini e oggi posta all'angolo di Piazza Barberini con Via Veneto insomma le api hanno caratterizzato la letteratura la pittura e questo grazie appunto al fatto che sono operose da una parte costruiscono un alveare che ancora oggi resta un mistero di architettura sociale per molti aspetti e dall'altra hanno rappresentato l'unica fonte di l'unica dolce fonte diciamo nel corso di questi ultimi secoli va ricordato anche il paragone che Marx fa in una delle sue opere tra ape e architetto l'ape è l'operaio l'architetto è quello che appunto elabora il sistema definisce l'architettura sociale e l'ape identificata con l'operaio può a sua volta collettivamente diventare una sorta di architetto sociale per quanto riguarda gli scorpioni invece in tal caso dobbiamo sfatare alcune leggende per anni ad esempio si è creduto che gli scorpioni non fossero immuni al loro veleno tuttavia alcuni biologi francesi condussero una ricerca nel 1998 dimostrando il contrario un'altra leggenda metropolitana vuole che gli scorpioni circondati da un anello di fuoco cerchino il suicidio in seguito alla scoperta del Journal of Experimental Biology del 1998 si svilupparono diverse tesi le più accreditate sostengono che lo scorpione semplicemente muoia per colpa del calore come tutti dato che anche un'esposizione prolungata ai raggi del sole può provocarne la morte quindi gli scorpioni in base ad un meccanismo istintivo cercano di pungere qualunque cosa intorno a loro questo dà l'impressione del suicidio e insomma vedere uno scorpione all'interno di un cerchio di fuoco è veramente tragico perché poi poveraccio muore soffocato dal fumo muore ucciso dal calore nel frattempo cerca una via di uscita impazzisce cerca di pungere ogni cosa attorno a loro e magari fuori da quel cerchio di fuoco c'è un cretino che gli ha disegnato attorno semplicemente per vedere come muore e soprattutto se si punge morendo ecco questo non è vero c'è stata appunto una ricerca del 1998 che appunto che ha messo in evidenza che lo scorpione muore come tutti bruciato praticamente e non perché si è punto le specie autoctone italiane parliamo sempre di scorpione di scorpioni non sono pericolose per gli uomini e gli animali domestici a meno che non esista un'allergia alla tossina inoculata dallo scorpione e la puntura ha un effetto simile a quello provocato da una puntura di vespe in alcuni paesi del sud-est asiatico gli scorpioni sono mangiati fritti insomma rappresentano uno snack noi gli diamo fuoco li schiacciamo e come vi posso dire nel sud-est asiatico invece si nutrono di scorpioni con queste curiosità e con queste notizie chiudiamo anche la puntata di oggi dedicata a scorpioni ape e api e vespe proseguendo in questo percorso a partire dalle prossime puntate le prossime puntate chi saranno diciamo chi saranno i protagonisti delle prossime non lo so ho ancora alcune schede da visionare altri due insetti li troviamo a seconda dell'animale che incontri in casa esatto esatto questi sono i claspi specialmente lo scorpione è uno dei miei di quelli che mi terrorizza più di tutti e non sei il segno dello scorpione e sono il segno dello scorpione ok e va bene questo era un po' il mio il mio peggior nemico tra virgolette infatti quello che dicevo prima quando vai a prendere la legna in cantina io lo becco sempre alla fine anzi ci sono anche delle volte che comunque lo scorpione obiettivamente è un animale innocuo questo lo dico anche se ho paura perché spesse volte me lo ritrovo in casa perché lui sta fermo fermo sulla legna e non si muove fino a che poi non lo appoggio in casa e poi da lì esce e poi cerco di buttarlo fuori è facilissimo buttarlo fuori perché non è che scappa come il serpente o come le ave e quando lo vedi ti metti a urlare no però ho un sacco di brividi mi fa veramente senso tra virgolette no no poi dopo lo butto fuori da solo mi calmo un attimo lo butto fuori non ci fai il cerchio di fuoco no non l'ho mai fatto chiamando tuo figlio guarda guarda assolutamente non l'ho mai fatto bene grazie a Paolo Fiorenzo grazie a tutti i nostri radioascoltatori che diamo appuntamento alla prossima settimana sempre con la rubrica dedicata alla sicurezza e al lavoro come sempre dedicata agli animali attorno a noi sempre su Radio Coppe 76 la radio di Conf Cooperative Viterbo